Buongiorno a tutti. Ho pensato a lungo ad una lettura che potesse far piacere a grandi e piccoli in queste nostre giornate casalinghe. Eccola qui, Federico di Leo Lioni, della casa editrice Baba Libri. Ringraziamo Baba Libri, come tutte le case editrici presenti nel catalogo di Nati per Leggere, che ci permettono in questi giorni difficili di condividere le letture anche con chi è lontano. E facendo questo fanno un po' proprio come il protagonista di questa storia, come Federico, che si prende cura dei suoi cari durante un lungo inverno, non soltanto pensando al cibo e alle cose pratiche, ma nutrendo lo spirito, coltivando la bellezza, i ricordi, portando la luce e i colori laddove non possono più arrivare. Lungo il prato, dove un tempo pascolavano le mucche, c'era un vecchio muro. Fra le pietre del muro vicino al granaio, cinque allegri topi di campagna avevano costruito la loro casa. Ma quando i contadini avevano abbandonato la fattoria, il granaio era rimasto vuoto. L'inverno si avvicinava e i topolini dovettero pensare alle scorte. Giorno e notte si davano da fare a raccogliere grano e noci, fieno e bacche. Lavoravano tutti, tutti tranne Federico. Federico, perché non lavori? chiesero. Come non lavoro? rispose Federico un po' offeso. Sto raccogliendo i raggi del sole per i gelidi giorni d'inverno. E quando videro Federico seduto su una grossa pietra, gli occhi fissi sul prato domandarono. E ora Federico che cosa fai? Raccolgo i colori, rispose Federico con semplicità. L'inverno è grigio. Un'altra volta Federico se ne stava accoccolato all'ombra di una pianta. Stai sognando Federico? gli chiesero con tono di rimprovero. Federico rispose. Oh no, raccolgo parole. Le giornate d'inverno sono tante e lunghe. Rimarremo senza nulla da dirci. Venne l'inverno e quando cadde la prima neve, i topolini si rifugiarono nella tana tra le pietre. In principio si rimpinzarono allegramente e si divertirono a raccontarsi storie di gatti sciocchi e di volpi rimbambite. Ma poco a poco consumarono gran parte delle noci e delle bacche. Il fieno finì e il grano era solo un lontano ricordo. Nella tana si gelava e nessuno aveva più voglia di chiacchierare. Improvvisamente si ricordarono ciò che Federico aveva detto del sole, dei colori e delle parole. E le tue provviste Federico chiesero. Chiudete gli occhi, disse Federico, mentre si arrampicava sopra un grosso sasso. Ecco, ora vi mando i raggi del sole, caldi e vibranti come oro fuso. E mentre Federico parlava, i quattro topolini cominciarono a sentirsi più caldi. Era la voce di Federico? Era una magia? E i colori Federico chiesero ansiosamente. Chiudete ancora gli occhi, disse Federico. E quando parlò del blu dei fiordalisi, dei papaveri rossi nel frumento giallo, delle foglioline verdi dell'edera, videro i colori come se avessero tante piccole tavolozze nella testa. E le parole, Federico? Federico si schiarì la gola, aspettò un momento e poi, come da un palcoscenico, disse Chi fa la neve, il prato, il ruscello? Chi fa il tempo brutto oppure bello? Chi dà il colore alle rose e alle viole? Chi accende la luna e il sole? Quattro topini azzurri di pelo che stanno lassù a guardarci dal cielo. Uno fa il sole e l'aria leggera, si chiama topino di primavera. Buche profumati, serenate, ce li regala il topino d'estate. Il topino d'autunno fa sciagli e ricami con le foglie dorate strappate dai rami. Il topino d'inverno, purtroppo si sa, ci dà questa fame e il freddo che fa. Le stagioni sono quattro, ma a volte vorrei che fossero sette o cinque o sei. Quando Federico ebbe finito, i topolini scoppiarono in un caloroso applauso. Ma Federico, dissero, tu sei un poeta, ti faremo una corona di alloro. Federico arrossì, abbassò gli occhi confuso e timidamente rispose. Non voglio applausi, non merito all'oro. Ognuno, in fondo, fa il proprio lavoro. E il mio augurio è che tutti noi possiamo essere un po' come Federico per i nostri cari in questo momento. Portare la bellezza, ricordare i giorni più belli, tutte le cose che torneremo a fare insieme. E vi do appuntamento a una.